Presentato nel padiglione istituzionale della regione in Fiera Bari, il progetto di formazione e comunicazione sul fascicolo sanitario elettronico 2.0, un click per la salute. Il progetto, dedicato agli operatori del servizio sanitario regionale, è finalizzato a migliorare l'accessibilità ai documenti clinici per i cittadini, fornendo, grazie ad un sistema informatico, tutte le informazioni relative alla salute di ciascun individuo, come ad esempio anamnesi, diagnosi, terapie farmacologiche prescritte, referti di esami clinici e visite specialistiche. Il progetto non è di certo una novità per la regione Puglia. Il fascicolo, infatti, è già attivo da otto anni. La vera sfida è farlo diventare il compagno di lavoro virtuale di tutti i medici. Sono oltre 4 milioni i documenti caricati all'interno del fascicolo, che diventerà l'unica porta d'accesso dei servizi online, a cui si accederà tramite speed, tessera sanitaria o carta di identità elettronica. Uno strumento, quindi, davvero importante, che consentirà di curare i cittadini pugliesi in modo completo ed accurato ovunque essi siano.